Excel lo usano tutti che ci vuole è così user friendly così intuitivo così che fa tutto lui che nessuno ti ha mai dovuto insegnare come usarlo eppure ogni giorno ti rendi conto che sprechi un po di tempo e di energia scontrandoti con gli stessi problemi e sai che Excel potrebbe darti molto di più mi chiamo Emanuele Vietti e sono consulente di controllo di gestione da 15 anni insegno Excel ma non solo presso aziende università e altri enti di formazione oltre 19 mila persone hanno già partecipato ai miei corsi dal 2015 ho anche un canale YouTube su cui pubblico tutorial dedicati al pacchetto Microsoft Office queste due esperienze di insegnamento e di divulgazione mi hanno messo di fronte alla difficoltà che le persone hanno ad affrontare un software solo apparentemente intuitivo come Excel per questo ho deciso di creare un corso nuovo il corso di Excel che non c'era e l'ho chiamato Xcamp Xcamp è il corso di Excel online tutto basato sulla pratica con 100 videopillole per 100 esercizi è una vera e propria palestra dove allenarti in autonomia pochi minuti al giorno e diventare davvero padrone di uno dei software di produttività professionali più diffusi al mondo con Xcamp impari a gestire correttamente i dati nel foglio di lavoro usare tutte le funzioni fondamentali utilizzare le tabelle pivot creare modelli di simulazione applicare la formattazione condizionale gestire grafici evoluti fino a conoscere le ultimissime novità introdotte da Office 365 per Windows ma soprattutto con 100 video da fare in 100 giorni acquisisci un metodo solido non si tratta di imparare a memoria qualche formula ma di comprendere davvero le logiche del programma nel modo più efficace attraverso l'esercizio pratico Xcamp sarà lanciato nel 2021 ma il momento migliore per sostenere il progetto è ora oltre agli esercizi alle videopillole e alla comunicazione sto anche lavorando una serie di nuovi tutorial teorici che pubblicherò gratuitamente sul canale youtube per creare un percorso strutturato e completo con Xcamp voglio finalmente aggiungere la pratica alla teoria rispondendo alle esigenze della mia community se ti piace l'idea e vuoi aiutarmi a realizzare Xcamp partecipa al crowdfunding puoi donare la cifra che preferisci e accedere Xcamp prima di tutti a un prezzo scontato questa è la tua occasione per avere finalmente il corso di excel che ti mancava e allora cosa aspetti ci vediamo in Xcamp A presto! Ciao